ciao 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 ragazzi ragazzi oggi siamo ritornate qui con un nuovo video questo video si tratta del video Sushi Challenge Perché Sushi Challenge? Perché sinceramente Noi Noi non l'abbiamo mangiato quasi mai E ci fa un po' Perché abbiamo mangiato solo Un po' non ci piace Allora ragazzi Le regole sono Che quando Giulia La chef La cameriera Come ti chiami Giulia in questo ruolo Giulia Chen No Giulia Chen Giulia Chen Come si chiama Giulia? Dopa Allora le regole sono Che praticamente Giulia Chen Ci deve portare questi Pezzi di Sushi Pezzi di Sushi E dicerò io Chi mangia tutta l'attenzione di sushi Vince Prima 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 Dell'altro vestario E poi Con le bacchette Ah E ragazzi Se non si mangia con le bacchette Perdi lo stesso Senza toccare con le mani Io già so che perderò Quindi 3 2 1 Go Allora Allora Prima 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 Salmone Salmone Avocado E buon Aspetta Buon 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 Go No mamma No 3 2 1 Go Mamma 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 Anche se il sushi Mamma Mamma Mi piace Oh ma tu mangi solo il rito 1 mamma, 0 mamma, avanti con la portata numero 2 2 mamma, è veramente buono Siamo fatti, capito Allora, il contenuto c'è Al ruo di Giulia si parte, attenzione Dopo vi dirò il giro di me Ma anche voi, puoi usare anche la sola Allora, 3, 2, 1, GO! Ehi, questo si fermi Ho perso, ho perso E questo non ci sta E' un foglio Oh, ma fuori No, ma io non ne so solo perché No, vincerò io Mamma No, ma che gli fa schifo E dai No, ma schifo Ma schifo Ma schifo Come? Come lo so se C'è oliva C'è oliva No, no, no E' pesce Pesce E' madre E' pure il salmone E' madre Ma il salmone mi manco E' madre Mamma 2 a 0 mamma Questa è una sfida proprio senza non ha speranza che ti sei mangiata ora 2 a 0 buonissimo non è vero questo mi piace al go di giulia e la fè furima ad boccata e oliva si su ma go ma vinta ma schifo che stai in grado io provarlo che buona io provare e beh io vi devo provarlo questa qua mi piace a me stai in grado ma è buona questa ma si ma ora posso vincere pure io ma no questa c'è ancora in bocca marghe ce la puoi ancora fare che marghe ce l'ha ancora in bocca no mi accendiamo a metà ma non mi piace questo puoi togliere l'arga ma non è l'altra che? 2 mamma 1 marghe 2 mamma 1 marghe Giulia io sto sempre a te allora dai prossimo round 2 mamma 1 marghe che prepara? il tuo che prepara? scusa io devo parlare oh oh allora in questo round ci sarà fila adesso abbiamo boccato il salmone metti a cuore questo eh ma saluto mi devo rimboccare le maniche perché sennò giù margherita questo è basta e dopo mamma cosa? e se vinco io Giulia c'è oi e scusa devo mangiare questo mi è piaciuto però forse vi piacciono tutti voglio provare nooo a me piace allora questo qui c'è filadessia penso non lo so e mi ascoltate c'è riso poi c'è uova di pesce grano poi c'è filadessia c'è filadessia avocado punto go nooo no e pesce e pesce e dai e dai nalle buona buona si si fa schifo nalle sto facendo rossa bevi buona 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 sisi noo non lo so giulia c'è perchè così questo va a essere più fortuna allora 3 2 1 5 5 6 Aspetta, vorremmo devi goiare! Ingoia meno! Ingoia! Sto freddo Stef! Com'è? È una bella! Oh! Scusa! La ne vai! Ma si! Ma! Ma! Che mossa! Buono! L'ho vinto! Buona bocca! Ce l'hai ancora? La ne muoviti! No! No! Si va! La! Muoviti! No! Devo vincere! Mangia solo il fiammine! No! No! Voglio venire in bocca! Voglio venire in bocca! Mantra la bocca! No! La bocca! Dicami! No! No! Due! 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 Mangia veloce! Aspetta! Aspetta! Te darai rau! 3! 2! 1! 2! 2! No! 2! No! 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 Non! No! 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 Simone! No! No! Tu vieni contro ti vengono! Vieni contro ti vengono! Mamma! Vai a preparare un altro a portata dai! e poi è imbrogliato perché non è toccato con la pacchetta tutto quanto si è ristrati squalificate perché ho cercato con le mani ultimo round mi raccomando e non bisogna toccare con le mani veloci non si bara giulia chen si è pronta ha preparato questa portata eccola che arriva piano piano marghe di aspetti di aspetti mamma attenzione bisogna bisogna partire al go della della chef giulia sei pronta non va no non la puoi toccare prima togli la pacchetta non imbrogliare giulia sei pronta giulia io devo vincere levati giuliapetta giulia eeeh 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 3 2 1 eeeh 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 vinto 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 quindi ragazzi questa era la challenge con il sushi mamma vuoi dare un voto? 7 perché zero preferisco decisamente il kebab il mcdonald questa è la vita c'è allora è molto amato il sushi ma da me no per niente no io amo il mcdonald e la piadina amo tutte queste cose qua che saranno anche schifiche ma mi piace di più quello e a Giulia? a te? non piace? allora ragazzi se questo video arriva a 5000 like in una settimana facciamo o un video challenge con papà o con mamma o con tutti e due ovviamente lo deciderete voi cioè scrivete la challenge che volete noi facciamo challenge mamma challenge mamma e scrivi eeeh e scrivete a fianco se con babbo se con mamma e se con tutti e due quindi il primo votato vince ma alla fine in questa challenge di sushi chi ha vinto? io si 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 tu mi hai avvenuto sotto ragazzi scrivete challenge mcdonald vinco tutto io ma no ma no io rompo questo ho un po' di tempo il colap ha dei posti vinco sempre io la mia pancia ha dei posti per me quindi 3 2 1 go quindi ragazzi questo è il video spero vi sia piaciuto a noi è piaciuto tantissimo iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii in un basso official su facebook marghe giulia kawaii in real sul secondo canale magi tv su musica ripiace la marghe giulia in real e se volete le maglie le maglie le povere le tasse i cuscini oppure di tante altre cose di tanti colori qua andate su www.marghe giulia kawaii.it quindi se il video vi è piaciuto lasciate like fino a 5.000 almeno commentate e iscrivetevi al canale se non vi è piaciuto shhhh